Ciao a tutti ragazzi sono Luke e volevo dirvi che cosa volevo dirvi non mi ricordo più per cui ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti no scherzo ragazzi volevo dirvi una delle cose certe ok alcune cose importanti oggi mi si impappina la lingua allora volevo dirvi innanzitutto che come avete visto è uscita il primo episodio della prima missione per cui volevo ancora ringraziare iquick zampetta e lucian perché ci siamo divertiti ragazzi sono stati bravi abbiamo avuto qualche problema perché vi dico abbiamo registrato abbiamo registrato dalle 5 del pomeriggio fino alle 22 per cui vi lascio immaginare allora abbiamo fatto due missioni diverse da queste nel senso sempre costruire sempre stessa missione però in altre mappe riuscite ragazzi veramente riuscite la grande erano venute delle case anche diverse da queste più belle ma per colpa del mio microfono perché non si sentiva un kaiser abbiamo dovuto cancellare tutto per cui vi lascio immaginare tutti i problemi che abbiamo avuto alla fine l'ultima è venuta diciamo bene ma sempre con il rumore di sottofondo del mio microfono un po' meno degli altri degli altri che abbiamo cancellato però diciamo che era accettabile per cui ci avrete visto anche un pochino più nervosi soprattutto io ragazzi ero nervoso mi scuso con luciano con iquitto zampetta se li ho un po' trattati male diciamo ma ragazzi ero nervoso ricrea il server ricrea il server registra poi cancella tutto poi senti se è venuto bene ragazzi veramente abbiamo fatto un bel lavoro direi perché nonostante quello ci siamo divertiti e vorrei fargli ancora i complimenti sia per la missione riuscita e anche perché tutto il casino per colpa mia per colpa del mio microfono e alla fine anche per colpa di skype va bene allora detto questo ragazzi volevo dire una cosa a tutte le persone perché stamattina mi sveglio bello tranquillo mi ritrovo apro skype mi trovo 72 nuovi contatti ok io accetto tutti come ho sempre detto accetto tutti parlo con tutti rispondo quasi tutti se alcuni non riesco a rispondere ragazzi capitemi mi arrivano tanti di quei messaggi al giorno che io a volte non ce la faccio a rispondere a tutti per cui vado in base all'urgenza rispondo ai più urgenti aiuto ai più urgenti poi arrivo a voi se riesco e se faccio in tempo ma non perché non voglio rispondervi ragazzi vi risponderei tutti l'ho detto e lo dirò sempre però ragazzi alle domande che io non rispondo sono le domande che mi fate tanta gente tutti uguali mi dai l'indirizzo ip del server mi scegli per il prossimo episodio ragazzi quando io nel video ho detto chiaramente sceglierò io non fatemi queste domande poi rispondo alle vostre domande che mi avete fatto ragazzi si nel senso scelgo altrimenti a caso e scelgo all'improvviso nel senso quando posso quando devo fare il video io vi mando dei messaggi vado sulla mia lista iscritti e prendo quelle 2 3 4 persone che mi servono e mando messaggi privati aspetto un po' appena ricevo la vostra risposta che siete disponibili bene se non ricevo la vostra risposta ne sceglierò altri per cui però ragazzi non preoccupatevi se avete da fare quel giorno non ci siete perché magari tornerò sul vostro contatto non vi preoccupate perché voglio dare l'opportunità non dico a tutti ragazzi perché siete tanti e dovrei fare non so quanti episodi ma quasi tutti di poter giocare con me ma non è il fatto ragazzi solo di poter giocare con me non è quello il discorso il discorso è tanta gente mi chiede Luke mi pubblicizzi il canale Luke sono iscritto ma non riesco a salire con gli iscritti e via dicendo ragazzi allora se io dovessi fare un video dove prendo 3 4 persone prendo di 3 4 canali e inizierei a fare il video così ciao a tutti ragazzi sono Luke vi sponsorizzo questo canale è un bravo ragazzo fa dei bellissimi video iscrivetevi al suo canale questo è il canale questo è il link a me non sembra giusto ragazzi si potrei anche farlo più avanti però cosa c'è di meglio cosa c'è di meglio con questa serie che mi sono inventato ragazzi ditemi sinceramente adesso rispondetemi nei commenti cosa c'è di meglio in questa serie dove do l'opportunità sia a voi di giocare con me sia di passare e sperare di passare quei pochi minuti insieme e divertirci giocando magari facendo anche delle missioni più difficili per cui è difficile ragazzi perché è difficile e nello stesso tempo ragazzi do l'opportunità a voi stessi a voi stessi di farvi pubblicità nel senso che la gente non vede un mio video col vostro canale ma vede un mio video con la vostra voce come giocate che persone siete per cui ragazzi più di pubblicità di quella secondo me non ce n'è ditemi se sbaglio non credo l'abbia mai quasi fatto nessuno questo tipo di episodi questo tipo di serie perché oltre a darvi l'opportunità di giocare con me conoscerci e divertirci insieme vi do l'opportunità di farvi pubblicità fare pubblicità a vostro canale o per chi non ha canali ragazzi vuole giocare lo stesso io lo invito lo stesso perché do l'opportunità a tutti sia di chi ha il canale su youtube di chi carica video e vuole crescere con gli iscritti o anche chi vuole solamente giocare con me io do l'opportunità a tutti ragazzi perché non è che adesso ho ricevuto la partnership e me ne fotto di voi penso ai miei interessi faccio video incazzature faccio i video che vanno di più no io ragazzi sono sempre io lo ripeto l'ho già detto e lo ripeterò sempre e nonostante quello anzi meglio ancora ragazzi che sono arrivato alla partnership meglio ancora che sto facendo successo e meglio ancora come mi dice tanta gente che sto diventando famoso si sono contento sono soddisfatto sono veramente felicissimo ma appunto per quello ragazzi appunto per quello do l'opportunità di far crescere anche voi do l'opportunità di insegnarvi quello che sto imparando io e vi do l'opportunità di farvi conoscere dalla gente in questo modo come giocando giocando con me semplicemente quello non faccio video ridicoli dove dico eh non ridicoli nel senso ragazzi ok posso anche fare un video più avanti li farò magari non lo so iscrivetevi a questo canale perché ha bisogno di oh è un bravo ragazzo ok però cosa c'è di meglio di fare questo tipo di video ragazzi cioè adesso siamo sinceri per cui ci siamo divertiti in questa missione ne farò altre e ragazzi come ho già detto sceglierò all'improvviso per cui sapete che io ascolto sempre i vostri consigli consigliatemi missioni belle carine come volete ragazzi consigliatemele veramente perché le aggiungerò al mio quadernino e poi sceglierò le più belle le più carine le più divertenti o anche le più difficili perché no perché avrei intenzione di fare altri tipi di missione poi ragazzi se io scelgo faccio un esempio scelgo quattro persone no e quelle quattro persone devono svolgere questa determinata missione non voglio la gente che mi dice no ma io questa non la faccio non la vuoi fare scelgo un altro per cui ragazzi io scelgo missioni io ho un quadernino con scritto tutte le missioni e aggiungerò anche le vostre che mi consiglierete e io cosa faccio punto il dito scelgo la missione e poi vado a scegliere chi giocare con me per cui ragazzi ho scelto tutto o magari a volte posso anche scegliere le persone e poi scegliere la missione insieme a loro vedremo ragazzi vedremo com'è meglio ma io spero di fare video divertenti non voglio tutti rompimenti di scatole ragazzi non voglio gente che vuole solo giocare con me solo per fare casino nel server perché io prendo lo caccio subito e scelgo un altro perché il video per me ragazzi deve venire bene deve venire bene e far divertire gli altri non voglio un video dove ci sono rompiscatole lo dico subito sono sincero e ragazzi non mandatemi più messaggi con scritto Luke mi dai l'indirizzo IP Luke mi scegli perché ragazzi ve l'ho detto anche nel primo video più me lo chiedete più io non vi sceglierò perché c'è tanta gente che magari sta zitta sta rosicando dentro ma vuole essere scelta perché so che ce n'è tanti così ragazzi lo so perché dovrei scegliere uno che continua a chiedermelo che continua a chiedermi l'indirizzo IP ragazzi c'è la whitelist posso anche darvi l'indirizzo IP e tutto ma c'è la whitelist che io ogni missione cancellerò e farò la nuova whitelist con la gente che ho scelto per cui non riuscirete mai ad entrare in questo server è un mio server è una mia serie non è un server aperto a tutti che potete entrare quando volete per cui è inutile anche che me lo chiediate non perdete tempo a farmi queste domande perché non vi rispondo neanche sia su skype che su altre parti ragazzi un'altra cosa importante volevo dire volevo fare i complimenti ancora a loro tre perché nell'ultima parte di video non mi sentivano pensavano che io fossi caduto ma sono andati avanti comunque per cui volevo fargli veramente i complimenti e si sono comportati bene logicamente e ci siamo divertiti una cosa importante che vorrei dire ragazzi vorrei rispondere a tutte le vostre domande per quelli nuovi dico che texture pack uso ragazzi uso la Misa 400 se cercate tra i miei video troverete anche un tutorial con troverete anche un tutorial dicevo con il link questo è il mio canale come vedete qua ci sono i video ragazzi qua c'è il pezzo cerca voi fate così scrivete che ne so scrivete Misa fate cerca vi manderà direttamente al video del tutorial di Misa per chi non lo sapeva come cercare i video con cosa registro ragazzi ho fatto tutti i tutorial tutto quello che faccio io faccio i tutorial per cui non mi chiedete piuttosto cercate con cosa registro registro con Fraps con cosa renderizzo renderizzo con Camptasia e a volte renderizzo con After Effects poi con cosa registro l'audio ragazzi l'ho detto anche nel video registro con Skype che mi sta dando problemi per cui perché mi chiedete con cosa registri l'audio se hai guardato il video vedi che sto registrando con Skype altre domande che mi fate vorrei rispondere una volta per tutte non mi vengono in mente non mi vengono in mente non mi vengono in mente ragazzi però vi dico una cosa i miei video ragazzi se vi annoiano a un conto ma se non vi annoiano come dite guardatele fine in fondo non fatemi domande che io vi do la stessa identica risposta nel video perché tanta gente mi fa le stesse identiche domande di cose che io dico nel video per cui ragazzi non so cosa dire se volete io cancello il canale tolgo il canale da Youtube mi apro un giornale mi apro un'edizione ragazzi così scrivo gli articoli e non faccio video perché se io devo fare video perdere tempo renderizzare i video mettere 2-3 ore per caricare i video per poi fare cosa scrivervi su Skype o sul forum le stesse cose che dico nel video non mi sembra giusto ragazzi perché io se devo scrivere sul forum o scrivere su Skype se ho tempo ride o scherzo e dico le mie stronzate vi saluto quello che volete ridiamo e scherziamo ma se non ho tempo ragazzi preferisco aiutare il gente che ha bisogno poi un'altra cosa tanta gente mi sta chiedendo di regalargli l'account Minecraft ragazzi io ho appena ricevuto la partnership non ho ancora guadagnato un centesimo non ho tutti i soldi da spendere e comunque sia la regalerò le regalerò l'account di Minecraft come regalerò altri giochi ma facendo contest non chiedetemi gli ultimi regali in account io non ho la banca d'america ragazzi lo farei con il cuore se avessi i soldi veramente ma non chiedetemelo così perché io l'ho detto in tutti i video farò contest farò contest farò contest ma non che mi metta a regalare così account a tutto il mondo avessi i soldi lo farei lo farei con il cuore perché ormai mi conoscete comunque detto questo ragazzi so che in questi giorni sto caricando pochi video ma capitemi ragazzi capitemi siamo sotto Natale tra preparativi tra parenti e cose via dicendo lo è difficile anche per me però nonostante quello pochi ma li sto caricando comunque se riesco più tardi carico faccio un altro episodio della millenair e appena ho tempo appena riesco faccio la seconda missione e vedrò che missione fare mi fa piacere che vi è piaciuta questa serie ragazzi ripeto possono partecipare solo i miei iscritti perché mi stanno arrivando tanti messaggi di gente che non è iscritta con scritto se vuoi mi iscrivo basta che mi scegli non ti iscrivere te lo dico sinceramente non ti iscrivere perché se ti devi iscrivere solo per essere scelto fare la missione e poi disiscriverti non iscriverti te lo dico sinceramente poi un'altra cosa importante ragazzi riguarda i server il server è coperto chi è iscritto al mio canale solamente ed esclusivamente per i server per entrare nel server a giocare per i tre server che avevo aperto poco tempo fa ragazzi disiscrivetevi pure perché c'è gente che mi stava dando messaggi con scritto non riesco più a entrare nel server lo hai chiuso io mi iscrivo era una presa per il culo durava poco disiscriviti io voglio iscritti veri voglio iscritti che mi seguono voglio iscritti che mi vogliono bene non iscritti solo per le stronzate che faccio perché apro server perché faccio contest o perché ha questa nuova questa nuova serie disiscriviti pure né mi offendo e né mi interessa perché vuol dire che non sei un vero fan non sei un mio vero fan per cui disiscriviti subito te lo dico sinceramente e per quanto riguarda i server dicevo ho già fatto un altro video se vi ricordate quando dicevo in quel video che i server che avevo precedentemente aperto stanno scadendo si stanno chiudendo automatici perché due erano gratis dopo 20 giorni si chiudevano ragazzi non li rinnovo perché mi hanno solo causato problemi mi hanno solo fatto incazzare e mi hanno solo fatto perdere iscrizioni nel senso mi vantavo perché avevo tante iscrizioni poi si chiudeva il server e si disiscrivevano alla fine io ci rimango male ragazzi per cui non voglio più avere per cui chi si deve disiscrivere per i server lo faccia subito e sappia che i server stanno andando a scadere più avanti farò altri server li aprirò molto più seri molto più durativi ma voglio fare le cose con calma ma bene non più di fretta come prima che poi vanno a finire di merda per cui ragazzi ho detto tutto volevo solo dirvi questo spero abbiate guardato tutto il video e vi aspetto nella prossima missione per cui posso scegliere una qualsiasi una qualsiasi persona tra di voi per cui tenetevi pronti al mio messaggio da Luke è tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti